Parliamo di motori, non parliamo di Formula 1, ma di qualcosa di molto importante per l'automobilismo, perché ci sarà una tappa del DTM, il Deutsche Touring Wagen Master Schaaf, vedete come mi sono preparato, che sarà appunto qua in Italia a Misano. Però la presentazione avviene nella sede di Garage Italia. Garage Italia vuol dire Lapo Elkan, ovvero Lapo è la passione per i motori e noi per la prima volta siamo ospiti qui di Lapo a Garage Italia Milano. Grazie Lapo per averci ricevuto questa serata. Averti qua è veramente un onore, sai che ti voglio bene, siamo pop amici e poter parlare di motore insieme a te in una giornata così importante per il DTM e sapere di avere una tappa italiana con il DTM, secondo me è qualcosa di importante, qualcosa di bello e qualcosa di bello per i motori. Ecco, questa passione per i motori, da dove nasce Lapo? Questa passione per i motori nasce da quando ero bambino che giocavo con le macchinine. Io ho sempre amato le auto, ho sempre amato personalizzare le auto, ho sempre amato guardare le auto, ho sempre amato il design delle auto. Le automobili sono il mio più grande amore e sono l'amore che porto più nel mio cuore, credo, di qualsiasi altro amore di cui si possa parlare. Forse l'Italia prima, i motori secondo. Gerhard Berger è il promoter del campionato DTM, è casuale che abbia scelto proprio la sede di Garage Italia per parlare di questa presentazione? Beh, devo dire che è un onore averlo qui oggi con noi, è una grande gioia poterlo ricevere qui oggi con noi, ci tenevo moltissimo ad essere qui per questa presentazione, ci tenevo moltissimo ad essere qui insieme a lui, perché penso sia importante come ho detto prima. Più cose belle si fanno in Italia, meglio è per l'Italia. E avere una tappa del DTM in Italia è qualcosa di importante per l'automobilismo. Automobilismo italiano che ha naturalmente l'emblema numero uno del cavallino, qui vedo un cavallino con una ricostruzione di una GTO addirittura fatta tutta a mano, dai vecchi battilastri, un tocco di classe. Assolutamente sì, questa è la mia scrivania in Garage Italia, è come facevano le auto a un tempo e a un tempo le battevano a mano e come si vede le battevano a mano sul legno, dunque era tutto fatto proprio a martello, era tutto battuto a mano con i battilastri. Quindi artigianalità all'ennesima potenza? Artigianalità all'ennesima potenza da una parte e tecnologia dall'altra, perché sulla scrivania è fatta in carbonio, dunque è carbonio e invece dall'altra parte è tutto artigianalità ed è l'eccellenza italiana che solo Ferrari sa fare. Tradizione e innovazione, poi c'è un frontale ad una 500, un grande classico che non muore mai lì. La 500 non ci può non essere perché è al MoMA, ma oltre che al MoMA la 500 è l'auto che più amo al mondo, questo si sa è la mia macchina più, diciamo è quella che sta più nel mio cuore e di fatti davanti ce n'è una Abarth che ho rifatto con l'Azzurro Lapo che è un colore che abbiamo brevettato e il Blue Navy Garage Italia. A volte mi dicono che sembra i colori dell'Inter, non c'è niente a che vedere con l'Inter. Azzurro Lapo, Blue Navy Garage Italia. Io sono dell'Inter. Con tutto il rispetto per l'Inter. Io sono dell'Inter per cui apprezzo questo omaggio indiretto. Dunque sarai contento, sarai contento che torni in Champions. Sì vabbè lasciamo perdere, però dopo 8 vittorie a Juventus c'è gran poco da gioire, per cui bisogna rendere onore ai migliori. Però ritorniamo un attimo nell'ambito dei motori. Ti sei cimentato in pista, hai voluto mettere casco e tute e guidare, vedere che cosa succede dall'altra parte della barricata. Che cosa hai scoperto? Io ho amato moltissimo avere l'opportunità di poter correre e di andare in pista. Questo è perché fin da bambino, quando vedevo Antonello che si occupava della squadra corse clienti e di tutta la parte corse clienti, io guardavo sempre queste macchine e sempre dicevo un giorno spero di poterne guidare una e spero di poter andare in pista. Sono andato in pista e mi sono reso conto che è quasi come un lavoro. E purtroppo non si possono fare tanti lavori. Quando si lavora se ne possono fare pochi. Dunque la realtà dei fatti è che adesso gioisco di andare a divertirmi in pista o andare in kart, ma quello che mi rendo conto è che io non sono un pilota. Sono uno che ama guidare le automobili, ma non ha le capacità di essere un pilota. Dunque bisogna rendersi conto quando non si è capaci e accettare anche quando si ha delle mancanze di capacità. Beh, questo ti fa onore. Ed ecco chi arriva, arriva la storia dell'automobilismo. Stiamo registrando per stasera. Ciao Pino, come stai? No, no. Ciao Pino, come stai? Che bello. Che ricordi. Hai fatto bene? E ci beviamo un caffè non appena finito. Scusate. No, no, ma non ti scusare mai. Almeno puoi testimoniare stasera in diretta. Non ti scusare mai. Ma è pazzesco perché prendi le botte sul corpo. Assolutamente sì. E' il miglior simulatore che c'è sul mercato oggi e c'è la possibilità di potersi testare con i tempi del figlio di Jean Alesi, con i tempi di Charles Leclerc, con i tempi di tanta gente che è venuta da Fedez, che non guida come Charles Leclerc, ha tanti doni ma non ha il dono di Charles Leclerc, canta meglio, esattamente, e ci sono tante cose in Garage Italia da venire a scoprire, da venire a vedere. Viale Certosa a Milano lo vedete, non potete neanche perché c'è una 500 con i colori dell'Inter, lo ribadisco. No, 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 Azzurro Lapo, Blu Nevi, Garage Italia. Va bene, un'ultima cosa, un ricordo ad un grande campione del passato, Niki Lauda, che verrà sepolto con la tutta dalla Ferrari, quindi Ferrari, Lauda, anche se lui era il numero uno Mercedes, rimane nel cuore per sempre. E' un onore per la Ferrari, ma soprattutto Niki Lauda è un grande uomo, è stato un grande uomo ed è un grande uomo, oltre che un grandissimo professionista, è un uomo con un coraggio indimenticabile, perché la forza, la determinazione che ha dimostrato nella sua vita sul campo di battaglia che definirà i circuiti, sul campo di battaglia che definirà l'aviazione, ha sempre dimostrato grande forza, grande determinazione, grande coraggio ed è un grande uomo che mancherà al mondo dell'automobilismo e che mancherà a noi tutti, perché è una leggenda ed è una grandissima leggenda. Allora, grazie alla Poelcano, a parlare di motori, DTM, perché non esiste solo la Formula 1, ma esiste la passione per i motori del Madrid. Assolutamente sì, grazie a te sempre, sono sempre felice di vederti. Grazie mille. Intanto diamo il benvenuto a Gerhard Berger in Italia, Milano da Garage Italia, perché c'è una gara importante del DTM a Misano. Welcome Gerhard, you are here in Milano for the presentation of the DTM race in Misano. It's a nice experience for you, una bella esperienza per te. First, it's always nice to come back to Italy. I love the place. I've been here around Christmas time on this location, Garage Italia, and it's such a nice place, so much spirit, car spirit in here. It was great today. I was really looking forward to come here and to see all my old journalist friends. Sì, è un piacere tornare a Milano, soprattutto in un posto qua come Garage Italia, che è un bel posto che non l'aveva mai visto, gli piace molto, ma soprattutto incontrare i suoi amici, i giornalisti italiani. Beh, amici e giornalisti sono due termini differenti. Friend and journalist sometimes is not the same thing. Yeah, you're right, but in some ways I've been a long time in Italy with Ferrari, and most of the italian journalists came friends. I love to see them, and I don't have bad remembering. It's even driving for Ferrari up and down. For me, it was always nice, fair, correct, and enjoyable. Sì, ho corso molti anni con Ferrari, per cui i giornalisti sono diventati degli amici. ho sempre avuto, vabbè, magari con Ferrari dagli alti e bassi, però siamo sempre stati in ottimi rapporti, quindi è godevole. Ma torniamo un attimo alla gara di Misano. Il DTM in Italia, noi in passato abbiamo avuto l'Alfa Romeo che vinceva. Adesso invece ci sono quattro case che se le stanno suonando. C'è una novità. In the past we had l'Alfa Romeo, the Terrarly Day, Reset 1 in the DTM Series. And now there is a new makers, a new constructors. Which about the news of this season? Well, let me tell you first, I mean, as you know, I took over this TTM platform. What is, for my opinion, the best touring car championship in the world. Very spectacular cars, very good product. It's a little bit like MotoGP. It's really wheel to wheel. It's really great. But it was very German. And I put the focus on to make it more international. And more international in motor racing, it's for me, we go to Italy, we go to England. That's a must. So we are also in Belgium, we are also in Holland, we are in Austria, and we're going wider and wider. But Italy is a very big focus for me. Maybe it's a lot emotionally from my side, but racing in Italy, it's a big thing. And so I thought I would like to connect TTM more and more to Italy. Very, very difficult to do because the fans are not aware too much of what it is about. And I think what the next step has to be an Italian driver, has to be an Italian brand. And when I look to it, there's one brand, it would fit just perfect. I mean, Alfa Romeo in the middle between BMW, between an Audi fighting for ball position together with the Aston Martin. That's what would really make me happy. Sì, ha detto che praticamente il DTM è una serie che è molto tedesca, però è il miglior campionato turismo esistente perché si lotta come nella MotoGP, ruota a ruota, fianco a fianco, quindi è molto spettacolare. Certo, si ricorda nel passato con Alfa Romeo, sarebbe stato bello avere un costruttore italiano, quindi Alfa Romeo che lotta con i protagonisti del DTM, per cui l'intento è quello di portare fuori dalla Germania e questo campionato è il focus maggiore qual è Italia e Inghilterra. Sì, corrono in Olanda, in Belgio, però bisogna riuscire a portare questa serie oltre i confini e vi garantisco che è molto spettacolare. Per cui magari avere un costruttore italiano poteva essere una soluzione giusta e Alfa Romeo chissà che non ci pensino. So, we talk about the DTM series, but your heart is still in Formula 1. Abbiamo parlato di DTM, ma credo che il tuo cuore sia ancora presente in Formula 1. We're missing Niki Lauda, abbiamo perso Niki. It's a very sad story to lose Niki, we all know, we don't imagine Formula 1 without the red cap coming around the corner. Niki was part of Formula 1 for all of us, as a friend, as a profession, as a Ferrari driver, as a world champion and so on. Niki was one of the greatest personalities Formula 1 ever had. Niki was also a great businessman. Niki was a good friend of mine. It's very sad not to have him anymore under us. At the same time, I have to say, he was 70 years old. Normal people need 1,000 years to achieve the same things that Niki achieved in the 70 years. and he wouldn't be back again in the conditions where he would feel happy. So, I think it was time, it was a relief for him and obviously we will remember him in the biggest way. Niki was a pilot, a champion, a great manager. I think it was a good friend of all of us, especially with his capellino rosso that was running inside the paddock. It was a great loss. He was born to 70 years old, but it's also true that the people, for living what he had to do, he would have to live for some millions of years and this makes sense how big it is. For me, it was a big loss, something indescribable, so it was really hard to manage it. But let's talk about the current formula. Lewis Hamilton with Mercedes is really going to win all of us. Incredible, huh? Well, Lewis is on the top. He is an outstanding driver. You know, I never liked to make too much comparison between Senna and any other driver because Senna was my top of the game. But I have to say Lewis Hamilton is very close on the same level than Ayrton Senna. He is quick in practice. He is putting one ball after the next one. He is doing no mistakes. He wins one race after another. He wins the World Championship. He set up the car in the way how he needs. He managed the tyres. He is quick in the wet. He is quick in the street circuit. Lewis Hamilton is at the moment on the top of his career and one of the best guys ever seen in Formula 1. Senza dupe, Lewis Hamilton in questo momento è al top perché è veloce dappertutto. Non voglio fare confronti con i piloti del passato, però è uno che si avvicina molto a Senna perché è veloce in tutte le condizioni. Per cui in questo momento è veloce sul bagnato, sull'asciutto, riesce a fare di tutto ed è veramente al top. Quindi, appuntamento Misano-Adriatico per il DTM. Gare spettacolari e tu ci sarai naturalmente a Misano il prossimo 9 giugno. The next appointment is a Misano with the DTM Italian race. The appointment is for all the fans. I suppose you will be there. Of course. I'm every race there. But I have to tell you, Misano is going to be something special because we're going to have a guest driver. We always have one car. They will come to see you. Of course, but I hope so. I hope so. A lot of fans are going to come see me and come and see us because we're going to do a great race. We have a very good race. But also to have Andrea with us is going to be for the Italian fans something very special. And I have to tell you what I would love to do is to have Andrea in the Audi and have Valentino in the BMW. So I talked with them and unfortunately with Valentino it didn't work out this year, but hopefully next year. But anyway, to have Andrea in the car it will be very special for us. I am looking forward. He has the full support and I hope he's going to be a good race. And to do a good race you need many fans to be behind you. So please come on to see us in Misano. Allora, partiamo dalla fine. Venite tutti quanti a Misano perché oltre ad andare ad Ulizioso l'idea era anche quello di portare Valentino Rossi con la BMW. Però per quest'anno non è stato possibile. Ci saranno gare spettacolari, molta gente, però se non venite voi non riuscite a dare. un pochino più di pepe. I saluti però in italiano, almeno quelli non li avrai dimenticati. You speak Italian for saying bye bye to the fans, you forget you're Italian. I forgot that I'm Italian. To be honest, I spend very little time lately in Italy but I will come back more again. But anyway, ci vediamo al prossimo anno.